Il lungo ponte a cavallo tra il 25 aprile e il 1 maggio non sorride a Maratea, dove la chiusura della statale 18 continua a frenare le presenze turistiche. Gli operatori del settore tornano a chiedere risposte immediate sulla riapertura della strada. In 8 anni il numero dei docenti precari in Basilicata si è più che raddoppiato, passando da 737 a 1624, l'allarme della Will che lancia un manifesto programmatico per il mondo dell'istruzione. Archiviate le elezioni regionali è già tempo di pensare alla tornata delle amministrative dell'8 e 9 giugno che coinvolgerà 52 comuni lucani, tra cui il capoluogo di Regione Potenza. Pochi ristori per i danni vigneti causati dalle perduranti piogge della primavera 2023 e i viticoltori del Vulture chiedono nuove risorse alla Regione Basilicata. E come ogni venerdì non perdete l'appuntamento con le previsioni del tempo per il fine settimana a cura del nostro esperto Gaetano Brindisi. Buon pomeriggio e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione dalla Basilicata. In apertura di questa edizione ci occupiamo di turismo e viabilità. Poche presenze a Maratea nonostante il lungo ponte iniziato mercoledì ad accogliere i turisti, soltanto un terzo delle strutture ricettive in attività lungo la costa tirrenica lucana con gli operatori ancora delusi per la mancata riapertura della Statale 18. Facciamo il punto con Michelangelo Russo. Un ponte lungo quello in corso fino a domenica. Numerosi turisti che hanno scelto la Basilicata a Maratea, nonostante le incertezze legate alla viabilità, confortano le previsioni meteospecie per domani e domenica. I primi gruppi di turisti sono arrivati già mercoledì e trascorreranno tre notti in uno degli alberghi o BNB che hanno deciso comunque di riaprire. In totale sono un terzo le strutture ricettive in attività, soprattutto lungo la costa, mentre nel centro storico della Perla del Tirreno si sono registrate poche presenze. La delusione per turisti, operatori e cittadini è sempre la mancata riapertura della SS 18 nel tratto Castro-Cucco-Marina, nonostante gli impegni ribaditi in più occasione dal sindaco commissario Daniele Stoppelli di consentire di nuovo il transito a partire già da aprile. Il mese di aprile si avvia la conclusione senza però il provvedimento tanto atteso. Accade così che il gruppo di turisti attesi dalla Liguria a causa della chiusura della statale dovrà sottoporsi all'itinerario più lungo per trecchina di una quarantina di minuti per una trentina di chilometri di strada provinciale da percorrere. Infine al consorzio e ai centralini degli alberghi gli operatori preferiscono non sbilanciarsi sul ponte del primo maggio che già per calendario è considerato dagli operatori turistici un ponte difficile con più giorni lavorativi. Ed ora passiamo alla politica. In attesa della composizione della nuova giunta regionale tutte le attenzioni si concentrano sulla tornata elettorale nei comuni. Saranno 52 quelli al voto l'8 e il 9 giugno per le amministrative. Se a potenza si discute sul bis di Guarente negli altri comuni arrivano le prime ufficialità come ci spiega Celestino Benedetto. Appena pochi giorni per metabolizzare il risultato delle regionali con la riconferma di Bardi e del centrodestra ed è di nuovo tempo di elezioni. Le attenzioni della politica infatti sono già proiettate alle amministrative dell'8 e 9 giugno. Sono 52 i centri, 42 nel Potentino e 10 nel Materano chiamati a rinnovare sindaci e consigli comunali. Solo nella città di Potenza si voterà con il sistema maggioritario a doppio turno. Dopo il via libera del centrodestra, la ricandidatura di Mario Guarente, con la coalizione aperta alle forze di centro sul modello regione, non sono mancate frizioni. A contestare il metodo utilizzato e l'accentramento delle decisioni a Roma sono i consiglieri comunali di maggioranza, eccetto il gruppo della Lega. Intanto in alcuni centri della provincia di Potenza chiamati al voto è iniziato il cammino verso le comunali e spuntano le prime ufficialità. Se ad Avigliano comune commissariato Giuseppe Mecca ha annunciato la ricandidatura già da oltre due mesi, a Marsi Covetere ad uscire allo scoperto è anche il sindaco uscente Marco Zipparri. A Tito invece si è conclusa l'esperienza di Graziano Scavone. Pronto a correre per la fascia tricolore, il vice sindaco uscente Fabio Laurino, che ha già rotto gli indugi ed ha inaugurato la campagna elettorale. A 13 chilometri di distanza, sempre nel marmo melandro, a Satriano di Lucania la nuova compagine civica Satriano Coraggio ha annunciato invece la candidatura a sindaco dell'avvocata sessantenne Antonita Spartan. Le notizie dal mondo del lavoro è iniziato in tarda mattinata in Prefettura a Potenza l'incontro relativo all'avvertenza che riguarda una quindicina di lavoratori nella stazione di servizio Galdo Ovest sulla A2, licenziati nel 2019 a seguito della chiusura della stazione di servizio sul vecchio tracciato della Salerno Reggio Calabria. I lavori per la realizzazione della nuova stazione di servizio sembrerebbero finalmente in dirittura d'arrivo dopo i ritardi per i contenziosi tra Anas e i gestori dell'area di servizio. Durante l'incontro odierno avviata la discussione tecnica con il nuovo gestore Maglione SRL a Marchio Sarni per la riassunzione della platea impiegata nella vecchia stazione di servizio. Il nostro auspicio evidenza Emanuela Sardone della Fisa Scat CISL e che si arrivi in tempi rapidi alla riapertura della stazione per dare finalmente una concreta prospettiva di lavoro a decine di famiglie. Ed ora parliamo di scuola. La Will lancia l'allarme sul mondo lucano dell'istruzione e affida ad un manifesto programmatico le proposte per affrontare le emergenze insegnanti e le criticità innescate dalla riforma del dimensionamento. In otto anni sono raddoppiati i docenti a tempo determinato e il servizio di Lucia Pietrafesa. Soffre e non poco il mondo della scuola in Basilicata. Negli ultimi otto anni nella nostra regione i docenti a tempo determinato sono più che raddoppiati, passando da 737 a 1624 e sono aumentati anche gli insegnanti di sostegno non di ruolo. Da 72 precari del 2015 si è passati ai 565 dello scorso anno scolastico. La situazione più critica riguarda Potenza, dove gli insegnanti precari sono 1096 contro i 186 di otto anni fa. E le cose non vanno meglio per il personale tecnico ausiliario che vede i supplenti salire dall'11 al 24,10%. Stiamo parlando di collaboratori scolastici, addetti nelle segreterie, assistenti tecnici e figure specializzate che dovrebbero garantire apertura, sorveglianze e ordinare amministrazione della scuola. I numeri parlano chiaro. Si è passati dai 2.507 addetti del 2015 ai 2.311 del 2023, con una crescita di contro del personale supplente di ben 379 unità. Secondo uno studio condotto dalla UIL, basterebbero 180 milioni di euro per stabilizzare 250 mila precari. Proprio il sindacato, nel lanciare l'allarme sul mondo lucano dell'istruzione, ha affidato ad un manifesto programmatico le proposte per affrontare l'emergenza insegnanti e le criticità innescate dalla riforma del dimensionamento scolastico. Tra i punti più significativi del documento, il miglioramento dei contratti per il personale, la garanzia di docenti specializzati per gli alunni con disabilità, la garanzia del diritto universale allo studio per tutti, specialmente per i giovani in difficoltà economica, contrastando il disegno di autonomia differenziata che non farebbe altro che aumentare i divari tra nord e sud del paese. Ieri pomeriggio i volontari del soccorso alpino e speleologico sono intervenuti nell'area del Belvedere nei pressi del Rifugio De Gasperi nel Parco Nazionale del Pollino. Una turista pugliese scivolando ha riportato una sospetta frattura alla caviglia. Una squadra di tecnici del soccorso alpino di Basilicata e Calabria, assieme ai colleghi del soccorso alpino della Guardia di Finanza, hanno immobilizzato l'escursionista e l'hanno trasportata in barella fino a Piano Ruggio, dove ad aspettarla c'era un'ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportarla in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. E siamo all'agricoltura con la crisi dei vigneti, viticoltori del vulture delusi dalle poche risorse messe a disposizione dalla regione Basilicata per le aree colpite dalle perduranti piogge della primavera del 2023. Sentiamo Luca Tamburrino. Appena un milione di euro in tutto, con un importo massimo di 6.000 euro ad ettaro ed un importo complessivo massimo del contributo di 40.000 euro ad azienda, detratti tutti gli eventuali altri interventi compensativi di indennizzo ed assicurativi riconosciuti. Lo prevede una delle sottomisure del bando regionale per il ristoro delle aree della Basilicata, colpite dalle piogge persistenti dello scorso anno. Per i viticoltori del vulture si tratta però di ristori del tutto inadeguati, peraltro da spalmare su un numero elevato di comuni, di cui ben 24 in provincia di Potenza. La Cieli Venosa ha fatto il punto della situazione, raccogliendo tutto il disappunto dei viticoltori. Le precipitazioni abbondanti e continue dei mesi di maggio e di giugno 2023 hanno mandato in crisi i vigneti dell'Aianico, il vino d'eccellenza della regione, causando l'aggressione di un fungo, l'aperonospora, che nel giro di pochi giorni si è diffuso in tutta la pianta ed ha colpito i grappoli. I numeri sono catastrofici, tra l'80 e l'85% dei vigneti compromessi e buona parte dei grappoli di uva è irrimediabilmente perduta. Gli imprenditori agricoli chiedono un potenziamento dei servizi fitosanitari regionali. Nell'ultima vendemmia si sono pagati a caro prezzo le disattenzioni e gli interventi inadeguati. La produzione regionale si è ridotta tra il 20 e il 30%, con punte del 70% tra i vignaioli dell'Aianico del Vulture. La produzione complessiva dell'annata vinicola, appena conclusa, si attesta intorno a 70 mila rettolitri rispetto ai 97 mila del 2022. La pagina sportiva con il calcio di serie C, ultimi 90 minuti della stagione regolare per Potenza e Picerno che preparano le sfide di domani rispettivamente contro Virtus, Francavilla, Alviviani, Juve e Stabia a Castellammare. Facciamo il punto con Salvatore Colucci. Cresce l'attesa per gli ultimi 90 minuti di campionato. Potenza e Picerno si apprestano a chiudere la stagione regolare domani pomeriggio alle 18 e 30. I rosso blu di mister Pietro De Giorgio ospitano al Viviani la Virtus Francavilla dell'ex Laribi. Giorni intensi al Viviani con Potenza che in settimana ha intensificato le sessioni di allenamento per arrivare pronto, carico e concentrato alla sfida di domani in cui si gioca la salvezza diretta al cospetto di una formazione che invece è appesa tra i play-out e la retrocessione. Tutti a disposizione tranne lo squalificato Schiattarella e gli infortunati a Senso e Verrengia alle prese con problemi muscolari. I melandrini di mister Emilio Longo invece vanno a far visita alla Juve Stabia. Gara non scontata anche se il Picerno va a far visita alle Vespe già promosse in Serie B perché la Juve Stabia fino a questo momento non ha regalato nulla e difficilmente lo farà congedandosi davanti al proprio pubblico e nei giorni in cui riceve il trofeo della Lega Pro. Per la Leonessa della Lucania la sesta posizione è ormai acquisita e l'unico obiettivo raggiungibile è quello di andare a ritoccare il record di punti registrato lo scorso anno quando i melandrini chiusero con 59 punti. Sì, siamo arrivati diciamo alla partita perché domani è l'ultima partita di campionato quindi la salvezza nelle nostre mani. La partita si prepara da sola perché si sa e a conoscenza di tutti l'importanza appunto della partita poi campo pieno, stadio pieno quindi è una partita che si prepara da solo a livello emotivo, a livello caratteriale, a livello di motivazioni. Quello che dobbiamo fare in campo ovviamente è provare a vincere, cioè dobbiamo andare in campo per vincere con grande coraggio, con grande pressione in avanti, cioè noi giochiamo in casa e vogliamo dimostrarlo al pubblico che la squadra vuole vincere dimostrandolo con i fatti. Dopo le parole della vigilia dell'allenatore del Potenza noi passiamo al basket con i play out di serie C. Il destino della University Palacanestro Potenza si deciderà in gara 3 dopo la sconfitta contro il centro-ester Barra con il punteggio di 71-84. Ce ne parla Vittorio Laviano. Dopo la vittoria a tavolino in gara 1 per la mancanza di un tabellone di riserva a ha perso una grande occasione la University Palacanestro Potenza superata a Melfi 84-71 dal quintetto campano nella partita che poteva valere la salvezza nel campionato di serie C maschile. Il tecnico del centro-ester Barra è decisamente soddisfatto e fiducioso per la gara di spareggio che si disputerà a campi invertiti. I primi due quarti di Potenza sono stati bravi a fermare i nostri punti di forza. Poi complimenti ai miei ragazzi perché nonostante il contraccolpo dove Potenza è rientrata sono stati bravi a restare in partita e poi pian piano punto dopo punto siamo riusciti a prendere il largo. Non era facile vincere qui soprattutto per come è andata gara 1 quindi mentalmente i ragazzi sono stati bravi quindi faccio i complimenti ai miei ragazzi e mo ci giochiamo tutto. La delusione del tecnico di University Antonio. Pochi uomini che possono sostituire gli Ancici perché è un punto di riferimento per la mia squadra. Loro ci hanno dato lezione di panchina e questo è il risultato finale però purtroppo io rammarico e la situazione che non ci alleniamo non ci siamo mai allenati con Costanza e purtroppo l'improvvisazione poi alla fine paga il tazio. Infine il presidente di University Enrico Sodano. Sicuramente stasera avevamo una grande opportunità che era di chiudere la serie nel modo più bello perché poi giocarla qui a Murphy era un'occasione per chiuderla con l'entusiasmo dei bambini di Murphy di Ruoti che erano a tifare per noi. Proveremo a giocarla per almeno portarla fino all'ultimo quarto punto a punto. Poi si sa che queste partite alla fine una squadra deve vincerle. Noi speriamo di farcela però sarà dura come dici tu. Da parte mia è tutto ma come ogni venerdì vi lascio in compagnia di Gaetano Brindisi per le previsioni del tempo per il fine settimana. Grazie come sempre per essere stati con noi a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Buongiorno a tutti, eccoci per l'appuntamento meteo. Sta finendo un mese di aprile particolarmente molto dinamico, caratterizzato prima da una fase molto calda che veniva già dal mese di marzo, poi invece abbiamo riassaporato l'inverno, un inverno che non è mai entrato se vogliamo ma ci ha mostrato, si è fatto vedere in molto ritardo, con molto ritardo in questi ultimi giorni. Infatti abbiamo anche questa mattina una foto del Sirino, le ultime due volte vi ho fatto vedere la foto dal basso verso l'altro. Oggi l'abbiamo dalla parte alta del Sirino, questa di stamattina dove era il vecchio impianto della Seggiovia dove purtroppo vedete i piloni mancano, dove è caduta un po' di anni fa sono caduti due piloni e quindi la pista non è più usufruibile. Però la webcam è usufruibile, infatti vediamo questo scorcio sempre invernale degli ultimi giorni, si può dire che è più presente la neve adesso in questo scorcio di aprile che non durante tutto l'inverno quando la neve è stata davvero poca. La neve si spinge fin verso i 1500 metri, la neve che è caduta ieri ma che sta accadendo in qualche modo negli ultimi giorni ad intermittenza, cade sulle nostre montagne oltre i 1400-1500 metri. Vediamo un'immagine del satellite, un'immagine che ci mostra una situazione di forte depressione, sta tornando l'aria fredda a interessare la parte occidentale dell'Europa, l'Atlantico che si avvicina verso l'Europa, una situazione che è stata presente per tutto l'inverno, infatti si sta ripresentando questa situazione e ci aspetta quindi una rimonta dell'anticiclone. Ogni volta l'aria fredda scende sulla parte occidentale dell'Europa, risale dall'Africa, aria calda, chiamata dall'alta pressione nordafricana che andrà a interessarci nei prossimi giorni. Quindi si nota un certo miglioramento, ancora un po' di nubi sull'Italia, vediamo lo zoom sulla nostra penisola e ci mostra appunto la situazione con il sud, vedete Sicilia, Calabria, parte della Puglia senza nuvolosità, un po' di nubi interessano ancora le zone tirreniche dalla Campania e dalla Basilicata, c'è qualche pioggia sparsa ma nel complesso la situazione come vedevamo va verso un miglioramento perché da domani poi le correnti da sud dovrebbero liberare il cielo o quantomeno renderlo meno nuvoloso. Con questa situazione andiamo a vedere quindi la previsione per oggi col grafico di Meteo 7, una situazione che vede la Basilicata con tante nuvole, ce ne siamo accorti da stamattina che ci sono delle nuvole presenti, si stanno intensificando quasi a mo' di situazione di cumulonembi estivi, ormai stiamo andando verso la stagione calda e si formeranno ulteriormente nelle prossime ore, tanto che in alcune zone della regione, ma molto isolatamente, molto anche brevi come durata, ci saranno qualche precipitazione, ci potrebbe essere qualche precipitazione qua e là, nella parte centrale della regione, ma davvero difficile localizzare, si tratta di fenomeni molto locali. Le temperature minime piuttosto bassine con un po' di cielo sereno, stanotte sono scese intorno ai 3 gradi a potenza e 5 a materia, però vedete le massime già sono in risalita, già sono sui livelli medi di fine aprile, 15 a potenza, 17 a materia, venti deboli e da domani poi i venti ruotano a sud-est e man mano andranno intensificandosi. Vediamo la situazione per domani, alta pressione, arriva da questo alito caldo dal Nord Africa che investerà innanzitutto le regioni meridionali per poi trasferirsi su tutto lo stivale, domani una situazione che vedrà un cielo in prevalenza sereno, sereno o poco nuvoloso, iniziano qualche velatura per via, come dicevo, di questi venti da scirocco che poi nei prossimi giorni porteranno di nuovo un po' di sabbia nell'atmosfera, ma il cielo in linea di massima dovrebbe essere, insomma, sgombro da nubi significative. Domani le temperature aumentano, parliamo già di 19 gradi a potenza, 20 gradi a materia, vedete, minime di 5 a potenza e 8 a materia, valori bene o male uniformati intorno ai 20 gradi, magari sulla parte orientale arriva lo scirocco, prende il fresco del mare, il mare in questo periodo ha la superficie del mare intorno ai 16-16 gradi e mezzo, quindi anche se i venti sono caldi, comunque vengono mitigati dalla presenza di acqua un po' più fredda, le acque superficiali, ecco perché con lo scirocco a volte fa più caldo nel potentino che non nel materano. Andiamo a vedere ora la giornata di domenica, una giornata che vedrà un'ulteriore stabilizzazione dell'atmosfera, arriva alta pressione proprio presente sul sud Italia, il cuore di alta pressione nordafricana si sposta verso l'Italia e quindi ci dà una bella giornata di sole su tutta la regione, pochissime le nubi, al massimo un po' di velature, come dicevo prima, ma vedete i valori di temperatura sono diffusamente superiori ai 20 gradi un po' su tutta la regione, tranne le zone più alte, vedete Vigiano, siamo comunque intorno ai 1000 metri d'altezza, 19 gradi, ma per il resto 20-21, 22 fino a 23 gradi, forse anche 24 nel vulto di Merfese, parliamo di valori massimi che sono diffusamente superiori alle medie storiche, le minime anch'esse aumentano, 7 gradi a potenza, 8-9 gradi a materia, insomma valori sicuramente accettabili rispetto a quelli un po' più freddi che abbiamo avuto negli ultimi giorni. Ci spostiamo a lunedì, lunedì è la giornata probabilmente più calda di questo periodo, avremo l'ulteriore consolidamento dell'alta pressione e quindi tempo bello su tutta la Basilicata, vedete il sole dappertutto, pochissime le velature, al massimo di presenza di nubi alte stratificate per via della sabbia nel presente del cielo, le temperature salgono ovunque, 24-25, insomma valori tipici di giugno, non certo di fine aprile, siamo di nuovo sopra le medie, dopo un periodo di 7-8 giorni, 10 giorni sotto le medie, ritorniamo a salire decisamente sopra le medie, anche le minime salgono, 8 a potenza, 10 a materia, insomma come vedete un fine aprile sicuramente all'insegna di connotati quasi estivi, non certo come quelli che abbiamo avuto in questi giorni. Cosa ci aspetta poi per il futuro? Bene, dicevo il 29 dovrebbe essere la giornata più calda, già dal 30 qualcosina comincia a cambiare, per il 1 maggio purtroppo sono previsti già dei cambiamenti significativi, ma soprattutto dal 3 maggio dovrebbero tornare le piogge importanti, il 1 maggio è una giornata all'insegna dell'instabilità, qualche pioggia, poi dal 3 maggio sembra che le piogge tornino significative, ed è anche buono perché insomma a maggio dovrebbe ancora piovere sicuramente. Vediamo il grafico degli spaghetti, ci mostra questa tendenza, ho proprio messo la freccia in alto per far notare il forte aumento delle temperature che ci sarà da oggi fino a lunedì, martedì, quindi la linea bianca che racchiude la media degli scenari degli spaghetti sarà decisamente al di sopra delle linee medie trentennali, storiche quindi, di almeno quei 6-7 gradi in più della media, forse anche 8 gradi. Piogge non ce ne sono nella parte bassa del grafico, a parte qualche modello che oggi pomeriggio, come dicevo, potrebbe esserci qua e là sulla regione, ma in misura molto limitata, le piogge dovrebbero ripresentarsi tra l'1 e il 2 maggio, vedete la parte bassa del grafico, mentre la parte alta ci mostra una tendenza a diminuzione delle temperature che però rientrano più o meno nelle medie, non ci aspettiamo freddo per fortuna, quindi solo qualche isolato spaghetto va verso il basso, ma vedete la media, la linea bianca racchiude la media degli scenari, è volta verso una stabilizzazione della temperatura su valori medi, quindi anche per i prossimi giorni a venire, nei primi giorni di maggio dovremmo non avere né caldo né freddo con il ritorno delle piogge, piogge che ripeto sono sempre ben volute, ben viste in questo periodo primaverile, meglio adesso, non certo poi in periodi quando iniziano le vacanze. Per il momento, visto il grafico degli spaghetti, abbiamo visto una fine settimana decisamente caldo, fino a fine aprile avremo 4-5 giorni da oggi in poi con tempo buono, a parte qualche piccolo residuo in stabilità oggi, insomma ci aspettano temperature decisamente a risolvere delle medie, primo maggio primo piccolo cambiamento, poi dal 3 maggio dovrebbero tornare piogge un pochino più importanti sulla nostra regione, ma senza freddo, quindi temperature normali per il periodo. E' tutto per quanto riguarda l'appuntamento meteo, buona visione, buona continuazione con i programmi della Nuova TV e arrivederci a tutti. Grazie a tutti.